Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci ancora nello spazio riservato a come imparare una canzone semplice da suonare al pianoforte e in studio con noi oggi c'è Francesco Gigante, che ci aiuterà in quest'opera. E la canzone che andremo a fare oggi è un pezzo dei Luna Pop, Se ci sarai, dopo la sigla. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi che sono sempre gli stessi sia nella strofa che nel ritornello e sono Do maggiore, quindi dove ci sono i due tasti neri questo è Do, Do Mi Sol forma il Do maggiore, poi ci sarà il Mi maggiore, tutti gli accordi saranno maggiori, quindi Do Re Mi, Mi Sol diesis Si e qui forma il Mi maggiore, poi a fianco c'è il Fa che avremo Fa maggiore, Fa La Do e poi ancora accanto c'è il Sol maggiore, quindi Sol Si Re e il brano farà così e quindi la strofa, poi va avanti sempre così, nel ritornello tutto resta invariato, quindi due battute per ogni accordo e il ritornello fa così, ve lo ricordate sicuramente Sei come un'onda che mi batte e sbatte dentro di me, mi hai già portato a largo dove una figlio non c'è e così via, la canzone si ripete sempre uguale, con strofa e ritornello, poi alla fine il brano sale di un tono significa che tutti gli accordi si sposteranno più su di un tono quindi quello che era il Do diventa Re maggiore, Re Fa diesis La quello che era Mi maggiore diventa Fa diesis maggiore, quindi Fa diesis La diesis Do diesis poi ci sarà ancora il Sol, che prima era Fa, adesso è diventato Sol e il Sol diventa La maggiore, La Do diesis Mi e il ritornello, ve lo faccio risentire, farà così Sei come un'onda che riparte e sbatte dentro di me, mi hai già portato a largo dove una figlio non c'è eccetera eccetera, la canzone si ripete fino alla fine Bene, come avete visto anche questa è una canzone semplice da suonare al pianoforte Io ringrazio Francesco Gigante per essere stato qui con noi e vi lascio in descrizione come sempre la diteggiatura per entrambe le mani e in più due link su come imparare gli accordi al pianoforte di puntate sempre presenti su questo canale Che dire, grazie, alla prossima puntata Ciao Ciao